Prova audio, 1, 2, 3, prova Cosa potrei fare? Non so vale, potresti fare quello che vuoi secondo me Potrei masturbarmi con la fotografia O con un menù Ma che c***o hai fatto? No, hai rotto il microfono C***o, è la capsula sinistra Chi è? Chi è? Hai rotto il microfono Anche noi giri la scena, la rota e giri la delle porte Siamo a Gigeni, uè Buonasera Rumore, capsula rotta Ma che c***o hai fatto? Hai rotto il microfono Eh, solo la sinistra È vero No, beh, faremo a meno, dai C***o Chi vuoi che se ne accorgi Potrei masturbarmi con una fotografia Porca c***o Buonasera 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 Grazie a tutti.